Ciao a tutti i gugi, benvenuto della vostra Andrea Nicolantuno, io Kai Watch 2 Psychospettri Dunque, lo scorso episodio ho detto che avrei affrontato tutti i mani in questo episodio Ma no, perché ci sono davvero tantissime cose che voglio mostrarvi prima di affrontare altri boss O meglio, altri boss della via del mistero, sia ben chiaro La prima cosa che voglio mostrarvi è In Gambe, che ci viene qui davanti a casa e ci porta una lettera Chiro scusa, è qui che abita Andrea? Sì Sono del servizio postale Yokai, ho qui una lettera per Andrea, per me, chissà chi mi scrive Beh, non c'è il nome del mittente, quindi non saprei Davvero misterioso? Forse, ma finirò nei quasi non la consegno, quindi prendila, ok? E va bene Tutto c'è, molto strano, ma va bene Grazie per la consegna E buon lavoro, nessun problema Andiamo in camberatura, apriamola, non vedo l'ora di sapere che dice Direzione Ghera Ghera a inizio Ebbene, questa è una delle nuove missioni aggiunta in Yo-Kai Watch 2 Quindi penso che si andrà a Ghera Ghera? No, non si va a Ghera Ghera al resort Congratulazioni Andrea, hai vinto E qual è il tuo premio? Biglietti per il tour espresso stregato Ghera Ghera Il tuo nome è stato estratto in un sorteggio indiscutibilmente legittimo Il biglietto allegato non è trasferibile Pass stregato Per il mio riccio le vaporose bisogni più fantasiasi si avverano Il premio è nostro e ci sono a volte solo 10 milioni di giocate Giocate? Per un concorso? Ma perché c'è il mio nome sulla lettera? Il massimo era 5 milioni di giocate ciascuno, quindi ho messo anche te Certo che potevi almeno chiedere Per cos'altro è stato il mio nome? Dicci tutto Whisper, andiamo da qualche parte a divertirci Già, il villaggio Ghera Ghera ha appena aperto nello Yo-Kai World Un villaggio turistico nello Yo-Kai World Saliremo sull'espresso stregato che è visibile solo a chi ha il biglietto Si ferma alla stazione Vallata Bizzarra sulla linea Volpe di Notte Cosa dobbiamo aspettare un treno? Che noia Per stavolta passiamo Pianta la palla di pelo, il valletto e il suo capo ci vanno insieme Vallata Bizzarra è subito dopo stazione Ragioni Sola, andiamoci di notte Ora, ora, cosa succede? Devo far passare il giorno e andare appunto alla sera Ma che succede se io vado a dormire? Vediamo un po' Vediamo un po' cosa succede Ebbene si attiva un'altra missione Sveglia, sveglia Bronson è qui Bronson, cioè prima pin e Gina, Bronson a caso Diamo i nomi a caso, certo Comunque sia, è il nuovo cattivo E' stata dura Non mi sarei mai aspettata di venire rianimata da lui Già, niente male Bronson Ehm, di niente Però, devo dirvi che Decadama è stata sconfitta Come? Padrona Decadama sconfitta? Quei furfanti? E' quel maledetto yokai watch Non combineremo nulla finché quel moccioso ha l'orologio Ma come facciamo a toglierglielo? L'orologio, il gatto, c'è sempre qualcuno che rovina i nostri piani Niente di quello che abbiamo provato finora ha funzionato Niente paura a un piano E ha a che fare con quell'insolente valletto yokai Se funziona potremmo fare in modo che Decadama non sia mai stata sconfitta Ah, è un bel piano Dovremmo metterlo in atto subito Ehehehe, emozionante, vero? Ah, non capisco Qual è il piano? Non le capisco mai queste due Ora, nel caso ne parlassimo con Whisper Attiveremo, potremmo attivare La sua missione Ma no Perché dobbiamo andare a Gera Gera Quindi Andiamo all'ora di Vitaliano Che praticamente è il punto più vicino Del quale possiamo prendere il treno Per Gera Gera Resort Praticamente siamo Davanti alla stazione Raggio di sole Lo direi a Volpe, insomma Basta che scendiamo un pochino Eccoci qua Il treno, appunto, è disponibile solo di notte Per Vallata Bizzarra, ok Dato che a Vallata Bizzarra è il capolinea Dobbiamo scendere per forza Ora Che bisogna fare? Bisogna aspettare Si ricorda? Si ricorda? Si è il passeggero Ok Ora Noi dobbiamo aspettare Rango D Per Gera Gera Wow Questo treno è pieno di yokai Ovvio L'ho potuta fatta apposta Per gli yokai Oh Questo sarà un viaggio davvero divertente Reggo stento Non capisco perché ulteriori l'hanno scritto puntato Ma grazie Nobita per le informazioni Whisper ovviamente è un po' sterrefatto Non ha fatto un buon inizio Whisper Capita qualche piccolo disguido quando si viaggia No, niente panico Cerchiamo qualche informazione del Maginista Sarà nel primo vagone Magin Maginista? Però quanti yokai? Davvero tanti Voglio andare un attimo nell'ultimo vagone Che sarebbe questo Wow Quanta bella gente Non si può andare più là, vero? Questa cosa non può andare più veloce Quante... Ok, niente Insomma Eh, tutte... Niente Non ci dicono nulla di strano Non c'è nulla da... Da pigiare Da toccare Da vedere Quindi direi di andare avanti Andiamo a primo vagone Che poi in realtà qui Cioè Ma... Ma se sta... Gentile cliente Se prego di procedere alla sala macchina In questo momento Che ci sia... Il boss Vaporix Mi pare si chiami Ok, Maginista Oh, così non va Davvero preoccupante Che faccio? Mi scusi Ma che sta succedendo? Beh, i treni hanno bisogno di una leva del freno Per fermarsi in sicurezza Qualcuno ha rubato la nostra Come? Questo sì che è un problema serio Oh sì Molto serio Un treno deve fermarsi Tanto in tanto Sapete? Tuttavia il fatto che il treno non possa fermarsi Significa una cosa Che il colpevole è ancora a bordo Oh, sembra un mistero da altri tempi Diamogli un nome Ecco L'incredibile caso dell'espresso stregato irrefrenabile Suona bene Mi fa piacere che il fatto che stiamo per schiantarci ti riverta Aham Dunque, miei cari passeggeri È il momento di farvi valere Vorreste risolvere il caso della leva del freno scomparsa? Per forza Eh 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 Sembrerebbe che il mio momento sia finalmente arrivato Io e il grande detective Whisper risolverò questo caso per te Anche tu Whisper Certo che gli yokai si entusiasmano per le cose più strane La prima fase di un'indagine consiste nella raccolta informazioni Su Andiamo a parlare con i passeggeri Assistente Andrea Ahm Certo Whisper Con te alla guida di questo caso Andrà tutto bene Ok, allora andiamo A raccogliere informazioni Ma anche se Scusatemi una cosa Ah, devo parlare con tutti proprio Cioè, hai pensato Di cosa hai? Parlo con uno qualsiasi È corso verso la coda del treno Ma con tutti? Ma ha detto che è corso verso la coda del treno Mamma mia Adoro viaggiare in treno Avanti, parliamo con tutti Sì Va bene Ok Certo, lui non è il ladro e ci attacca Andiamo al prossimo vagone Allora, devo cercare il colpevole In ogni singolo vagone Devo parlare con tutti Ecco, un ladro Lascia perdere e combattiamo A caso Proprio Tranquilli Ok, e anche questa è fatta Ah, ok L'inguermiera è salita Allora, vediamo un po' adesso Dato che lui è Non è il ladro L'ho visto in ogni caso La coda del treno Tartar Ricordo Ok, combatte Ok, a questo punto Mi danno indizio Non si tratta di uno yokai classico Ok Un ladro Non ho visto uno yokai Correre sulla Sulla coda del treno Ok Questo vuole lottare Qualche indizio È scortese fare così sul serio Non ti parlo più Eh, va bene O cielo a cielo Forse è stato un errore Mmm, questo niente Dentostrella Perché sì, si vuole sempre nascondere Ok, allora Eh, ma a questo punto Potrei continuare a chiedere Ma non so se Quanti indizi devo raccogliere Perché comunque sia Whisper a quanto pare È lui che mi dice Andiamo, non andiamo Ok, lui è il penultimo Ecco Si rotta anche con questo ovviamente Beh, con l'energy max Si va subito, dai Non perdiamo altro tempo Uchi, banana 63 Ok, Rubaris Eh, Rubaris però In effetti Insomma Con un nome del genere Però andiamo al prossimo vagone Meno male Oh, allora Allora Questo è l'ultimo vagone Dell'espresso stregato Non abbiamo trovato il ladro In nessun altro vagone Quindi Ciò significa che il colpevole è qui Siamo in coda al treno Ci sono Il colpevole in questo vagone Ho appena detto la stessa cosa Ora dobbiamo solo identificarli In base agli indizi All'indizi che abbiamo Analizziamoli Una grossa lingua Non è un yokai classico E corre rumorosamente Forti di questa Accurata indagine Dovremmo poter acciuffare Il malvagio Ecco a voi Whispery Grande detective Non c'è un caso Che non risolva Un momento Sono io quello che Dunque assistente Andrea Catturiamo il colpevole Oh, andiamo Ok Grossa lingua Corre rumorosamente Ciao Eh, che succede? Sei il colpevole Quello che ha rubato La leva del freno Sei proprio tu Presta a me E io io Aspetta un attimo Andrea Sarebbe fin troppo facile Se prestamè Avesse preso in prestito La leva Se le mie roti di detective Mi hanno insegnato qualcosa E che l'ovvio non Accidenti Come sapevate che ero io? Come? Questo accade quando il criminale Tenta risperatamente di scappare Beh Ragazzi Non è che Era Proprio tanto difficile Sai Whisper Oh no Sono stato scoperto Bene Prendi e basta Non mi importa Oh La leva del freno Con un occhio Ora comprendi La vera abilità Della grande detective Whisper Nulla di ciò che fai Può ingannarmi Anche se prima Eri proprio fuori strada E ora prestamè Dicci perché Hai rubato la leva del freno E va bene Mi dispiace Ero molto irritato E l'ho presa senza pensare Che è successo? Vedi Ero molto emozionato Dall'idea di andare A villaggio gara gara Ma ho perso il mio biglietto D'ingresso Per la forte rabbia Ho perso la leva Ehi Prestamè Hai qualcosa Appiccicato ai vestiti Oh Oh E il mio biglietto D'ingresso Me l'ho ritrovato Ordinaria amministrazione Per un grande detective Come me Ne so avere due casi in uno Ho davvero delle doti Reduttive e brillanti Sogno io quello Che ha trovato il biglietto Su Assistente Andrea Restituiamo la leva Del freno A Maginista Che poi E' macchinista In teoria In teoria Cioè vedendo il nome Maginista Macchinista Ah Che ne so io Male 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 Allora che faccio? Eccola Consegna la leva Sì sì È proprio questo Ora possiamo fermare il treno Ti piacerebbe portare questa Al tizio Che conduce il treno Il tizio Che conduce il treno È solo che dice Di voler ricompensare Chiunque risolvesse il caso Oh Una ricompensa Eh Mi sembra naturale Che bel gesto Prego Allora Entrate pure Nella sala macchine Eh Entriamo nella sala macchine A farci stuprare male Che ti credi Che non lo so Chi ci sta ad aspettarmi di là Oh Eh Per chi mi hai preso Ok Ricopro abbastanza PS No è troppo Ricopro un po' di PS Vabbè dai Cerco di fargli stare carichi Al massimo Perché secondo me Ci aspetta una bella lotta Dura Una lotta molto dura Voglio che siano carichi I miei yokai E non si può salvare sul treno Eh Proviamo Eccolo Wow Che sta succedendo qui Penso provengo dal Mac Eh Dal conducente Sembra furioso Chi ha rubato Le mie leva del freno Imperdonabile Imperdonabile Eh Per tutti i soufflé Voi che siete Che volete Eh Ci scusi Signor conducente Volevamo solo restituirle Questa Questa è Quindi siete voi Che avete rubato La leva del freno Eh Come Ne l'abbiamo appena Recuperata Silenzio Non negatelo Siete nei pasticci Grossi pasticci Eh Certo Ti pareva Questi sbagli Tante È l'ordine del giorno Ok Vaporix Eheh Affrontiamo Vaporix Oddio Che è successo Che Che succede Wow Sono preoccupato Ora Ah Devo chiudere La leva Aspetta Non mi dire Che la leva Col vapore Lui ha più forza Ha aumentato La sua energia Ok Allora Io te lo giro Ok Niente Si è chiudo Ok Ah Linguer Miera Ah Vabbè No Ok Linguer Miera Posta ancora un attimino Lo spirito di Vaporix È leggermente aumentato Io te lo chiudo Ragazzi Sembra facile Ma non lo è Perché devo stare attento A quello che mi fa lui E poi fare L'energy max Con gli yokai Se riuscissi a purificare Lui L'aiuto di Vaporix È sparito Eheh Meno male che è sparito Ma qua ragazzi È tosto Uh È stressante Perché devi stare ad attaccare lui E a guardare Se appunto Apre le valvole Ah Linguer Miera Se n'è andata Ho una medicina potente Vabbè usiamola Dai Non fa nulla Non è Non dico che è sprecata Però Quasi Ok Chiudiamogli ste valvole Una Due Anche tu Ancora? Quante volte devo girare? Eccola dai Ok Ancora Ah Sì Ok è andata Ah Oh Sopra fortuna di Shagunyan Oh Spera Quella durata No Però è bene lo stesso È bene uguale No Fermati Beh più soldi Non è che mi interessa Ora dell'esplosione Wow Cos'è? Wow Quanti danni Ma è matto Oh mio dio Ma trema tutto Trema Oh Smesso Meno male Ma mi stavo preoccupando Ma dato che l'ingrabbiere un attimino si è ripresa Facciamo curare tutti Vai Darknyan ok Darknyan ok Perché Evita l'energy Max comunque sia Darknyan E non c'ho problemi con lui A dire il vero Anche per questo A parte che Darknyan Emula Batman E come ho sempre detto E ribadito Batman È il mio superero preferito Comunque sia Quindi non Quindi per questo Tengo più che altro Per questo Tengo in squadra Perché se andiamo a considerare Non è che sia poi tanto forte Alla fine Darknyan E poi avvita l'energy max Quindi comunque sia Contro Su contro Di boss Yokai Che fanno l'energy max È molto utile Dai ci siamo quasi ragazzi Eccolo È andato È andato È andato Basta un attacco No giusto per farvelo sapere Grande Grande È andata Beh insomma Non troppo difficile Non troppo difficile Ma neanche troppo facile Vabbè Con 4 Yokai A livello Tra 57 E 64 Insomma Ci vuole un po' Guarda quanti punti esperienza Mi ha dato Insomma Non era proprio tanto facile Alla fine Come stavo cercando Di dirle Non siamo dei ladri Oh Abbiamo risolto il caso Della leva del freno E Andrea si è preso il disturbo Di riportarle Mal tolto Oh cielo Scusatemi Era così fumante di rabbia Che mi ha inviolato ascolto Sono disperato Senza la mia leva del freno Finisco per sorriscaldarmi E infuriarmi Quindi La leva del freno Mette a freno La sua rabbia Comunque Ora è tutto ok Facciamo rapporto al mac Maginista Ah perché macchinista Maginista Lui è magico Quindi Uno Yokai è magico Va bene Penso ci possa stare Una vittoria Stribitosa per il grande Detective Whisper Siamo al sicuro ora Grazie mille Sembra Vistimo Detective Certo Certo Ma c'è qualcosa Che non va qui Ha detto che il conducente Voleva darci una ricompensa Ma non c'era da nulla Ehi Hai ragione Già mentito Perché non voleva affrontare La rabbia del conducente Eh ma sull'espresso stregato Dobbiamo lavorare tutti insieme Ho solo Indirizzato un passeggero Verso un problema Che tutti volevamo risolto Questo Yokai Ha un modo davvero strano Di considerare la situazione Comunque Il caso è chiuso no? Non preoccuparti Ti ricchiamenti Tocchi E su cosa Ahm Prendi questo Biglietto gara gara Ahi Ehi E' un biglietto gara gara Per uno dei fantastici parchi Del villaggio Dura vita Per quanto ne so Puoi sarlo quante volte desideri Oh E credo di roberti dare anche questo Passaggio condo Ehi Di che si tratta? Ti prego di tenere sempre con te il biglietto Se sei fortunato Ti potrebbe capitare Di salire su un altro tipo di treno Comunque Questo treno sta per arrivare a destinazione Goriti il resto del viaggio Ok Passaggio condo Credo che sia per Il treno Quello d'oro In arrivo al villaggio gara gara Assicuratevi di avere con voi I vostri effetti personali Prima di scendere Sì Però Il villaggio gara gara Uuu E' bello E' bello ragazzi E' bello Eccolo là Parti treno Parti Che voglio vedere L'entrata La bocca Dell'entrata Che poi sinceramente Ha gli occhi che si muovono Io sono un pochino schifoso Quindi Eviterei di stare troppo tempo A guardarlo Eccoci Siamo al villaggio gara gara Oh Wow Il villaggio gara gara Tre zone principali Tutte accessibili Pietreno Ci sono le terme Campialisi E il parco divertimenti Gara gara Poi c'è il fame da lupi Un caffè con i coros E i fornelli Il villaggio Un treno privato Questo posto deve essere enorme Al momento ci troviamo Nella zona del parco Gara gara Quindi preparati Per un divertimento Carnevalesco Di proporzioni epiche Evviva Forza allora Proviamo tutte le altre azioni Eh sì Ma nel prossimo video Dunque nel prossimo video Andrò un po' in giro Per gara gara E vedo cosa fare Perché so che c'è Una specie di Mini gioco con i coros Se non vado errato Oppure una vera e propria missione So di per certo Cioè Per quanto ne so È un mini gioco Non so se è una missione Vera e propria E Per quanto ne so Poi comunque sia Dovrò visitare anche le altre parti Ma per entrare Sembra ci sia una missione Da fare Chiedo scusa E vi ho dato l'accesso A chi è privo di biglietto Grazie della comprensione Sì Devo fare una missione con lui Ma abbiamo Traspec qui Beh In effetti Mi sembrava anche Abbastanza ovvio Che ci fosse un Traspec No non mi volete Trasportare Ad ogni modo Gucci Come sempre Vi ringrazio per aver seguito Anche questo video Che spero vi sia piaciuto In descrizione Come sempre Trovate il link Per twitter E se ancora non siete iscritti Al canale Iscrivetevi Noi ci vediamo domani Con un nuovo video Bye bye Ciao